Dio, come se sono andato adesso? Ci sono arrivati anche i tiri, no? Sì, ci vuol dire, evitavamo ora, poi era a Morveglia, cosa cazzo? Della Mila. Della Mila. Della Mila, in cui? Ma cosa c'è? Mi vengo a lasciar casa, non c'è, 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 non c'è. Aio. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.